Assessore, dal Vinitali di Verona a Mesagni per la valorizzazione di una cultura tipica del territorio ma che sta riscontrando sempre un più successo, quella del carciofo comunista. Sì, speriamo che porti anche lo stesso successo che abbiamo avuto al Vinitali. Dobbiamo lavorare molto per cercare di portare, visto che stiamo parlando del carciofo, di portare in giro per il mondo anche questo prodotto che per questo territorio credo che sia importante. Dobbiamo cercare di aiutarci con il marchio di Puglia, perché tramite il marchio di Puglia possiamo cominciare a fare anche una comunicazione, un'informazione che poi serve per poter meglio sponsorizzare e poter far diventare il prodotto anche più interessante negli altri mercati. Dobbiamo anche cercare di aiutare questo prodotto con il GAL, tramite i GAL. I GAL sono questo strumento che in qualche maniera mette nelle condizioni l'imprenditoria locale di organizzarci meglio e in questo caso dobbiamo anche, appunto per questo, dobbiamo nell'immediatezza fare degli incontri per poter determinare le scelte delle prossime risorse che sono a disposizione nel 2014-2020. Vediamo di inventarci anche qualcosa, qualche bando da far bandire dai GAL a tutela del carciofo che mi sembra che sia una cosa di grande interesse.